Ben trovati un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Possiamo notare ancora l'anticiclone molto più a nord con i massimi tra isole britanniche, paesi bassi e Germania. Sul Mediterraneo quindi proseguiranno queste infiltrazioni di aria molto umida in quota. Ecco gli effetti con una giornata di sabato al mattino variabile qualche residuo fenomeno in prima mattinata sul nord-est e poi migliora. Durante il pomeriggio temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese e poi lungo tutta la dorsale appenninica con parziale estensione dei fenomeni alle coste del basso Tirreno. Ecco qui di fatti una situazione di tempo soleggiato durante il pomeriggio ma i temporali a ridosso delle Alpi, la pianura piemontese e dicevamo dorsale appenninica con coinvolgimento delle coste del basso Tirreno e Sicilia Ionica. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo.